Porca puttà, quanti punti? Cissass E perchè ci stanno pure... Ci stanno quelli aggiuntivi Tipo te ne danno 30.000 gratuiti Vabbè io ho preso già questo Non è un problema Bentornati e bentrovati E questo è impossibile votare perchè Giocano oggi Ovviamente Però in realtà giocano da 2 ore Allora bentornati Siamo nelle FGC di giugno Chiedo scusa se O intanto sembra che Mi muto O qualcosa così Mi cuore al naso perchè Ho una maledetta allergia Che mi è uscita nell'arco di 7 anni Tipo una cosa del genere Che c'è una sempre di più E sono allergico a 2 cose Un po' la polvere Ma vabbè E un po' E tanto Non un po' Tanto Ha un'erba chiamata Erba spirulina Non lo so come cazzo Se chiami Le voletta E praticamente Questa erba cresce Durante l'estate Dalla primavera Inizio di primavera Quindi da marzo Maggi Aprile Fino all'estate Ehm E' praticamente Quell'erba che sembra Una spiga del grano Se ci avete fatto C'è ne fate mai caso Se era una spiga Non provo grano grano Ma c'è una spiga Che diventa verde Che è verde Ecco Io davanti alla mia camera Ho una vicina Che c'ha un prato Che non taglia da mesi Che ormai è tutta quel tipo di erba Non taglia da mesi Perché non lo vuole tagliare E' chiaro Perché è quello Il motivo E quindi Quando soffia il vento Per rinfrescarmi Ovviamente Perché sapete Come ho già spiegato più volte La mia camera è un inferno D'estate Perché soffro tantissimo Perché c'ho la camera Più di 18 ore al giorno Col sole Solli che batte sopra Vado a immaginare Che non posso Senza aprire la porta A far Aprire Aprire la mia porta A passare un po' d'aria Entrano ovviamente Il polline Con l'odore dell'erba E io comincio a stanno dire Quindi ho sempre il pasticco Tutta l'estate O il più Qualcuno Deve andare a tagliare l'erba Allora Fatto La mia solita ranta Del cazzo Dio santa Ma che è sta roba Allora FGC di giugno Stavolta siamo nella cosa celtica Secondo FGC Da quando ne ho coso E abbiamo Lug Della mitologia celtica In realtà Non è il suo nome Nella mitologia celtica Il suo nome è Lugus Mi sono sbagliato Su un paio di cose Il suo nome Perché Allora Ha tre Diciamo versioni del nome Lug Che sarebbe quello Irlandese Antico Lug Con l'H Sarebbe quello Gallico Una cosa del genere Del Galles E poi quello Su celtico È Lugus E mi sono anche sbagliato Sul nome della sua lancia Che non è Briconac Credo che Briconac Sia il nome Della sua fionda Non lo so La sua lancia Si chiama Si Come è Sle Sle Sleaub Sleba Sleba Vabbè Vabbè Avete capito Allora Sto girando questo video Che praticamente Sono mancato due giorni In realtà Però Lo tiro giù adesso Ragazzi Perché se Come sto Adesso con l'allergia È capace che Domani Non ce la faccio Proprio a parlare Già mi sta Prudendo il naso Adesso Già mi sta Non riesco a parlare Allora Questo god Mi ha dato Tantissimi problemi Da creare Non perché Non abbia cose Particolari Ma che ne ha Troppe E tutte Queste Le che ha Sono praticamente Cose già viste Nel senso Elenco Ha un cavallo Magico Dato dalla divinità Dell'acqua Che non mi ricordo Come si chiama Chiamato Arum Anbar Credo si pronuncia Non lo so sicuro Che è un cavallo Che passa Sull'acqua Che riesce a camminare Dappertutto Anche compresa L'acqua Dima un po' La Slea In finita di iodino Ma va va Ha una barca Magica Va bene Ha una fionda Fatta di arcobaleni E nuvole Letteramente Definita così E' capace Di sparare Proiettili Alla velocità Della luce Non so se Se i proiettili Lancia la fionda Oppure Nel'altra cosa Non lo so Però è capace Di sparare Proiettili Alla velocità Della luce E poi C'è la lancia Si Che tipo di divinità E' praticamente Una divinità Rituale Tipo Cerimoniale Della Militare Quindi in parte Della guerra E' il dio Della luce Però protegge Anche dei mercanti I ladri Wow Quindi in parte Sono parte anche Della guerra Perché è una cosa Militare Del giusto Processo E giusto Per detto Per detto Una cosa Del genere C'è un sacco Di dettagli Strani Però ho detto Vabbè facciamo Quella la luce Poi mi sono reso Conto Quando man mano Leggevo la cosa Mi sono reso Conto Che ho fatto Una cazzata Perché Allora Per la luce Abbiamo Il più recente Personaggio Che è uscito Su Smite E' una divinità Della luce O meglio Stando Alla loro Alla loro Come si dice Interpretazione Lei è una Dea Della luce O solo Della luce Però E Già Una cosa Particolare Ha detto Ah Non ci ho pensato Vabbè Ho pensato Per fare il kit E' stato un disastro Perché Ogni cosa Che io potevo Usare Per fargli Fare il kit E' stato complicato Perché Gli davo La fionda Come Hunter Ho pensato Innanzitutto Una fionda Non si può Fa Perché Perché un Hunter Deve essere rapido A sparare L'unica cosa Che abbiamo Che è diversa Da un'arma Tra parentesi De fuoco Come per esempio Le lance Le archi Il balese Eccetera Eccetera E' Le bolas Di scibalanche E le bolas Possono pure Lanciare I pezzi Più o meno Ti serve solo La mano Per tirarle Mentre La fionda Devi Tenere Più il tent Tieni Premuto Il proiettile La fionda Più tieni Giri La fionda Velocemente Più velocemente Tecchicamente Dai la forza La fionda No? Quindi ho pensato Mmm Non lo posso Fa Hunter Ho pensato Ho detto Allora Non lo posso Fare Guerrero Detto Fisico Lo voglio Fa fisico Però ho detto Ma non mi fate Farlo fisico Fisico Cioè Se lo voglio Fa fisico Ma lo voglio Fa che faccia Un sacco Di danni E ho detto Allora Lo facciamo Assassin Anche se Con il senso Di poi Probabilmente L'avrei fatto Guardian Guardian Non mage Ma basta Fare altri mage Quindi ho deciso Di farlo Assassin Il tipo di assassin Non so Ragazzi Ripeto Sono avuto Tantissime Diffici volte A farlo Le abilità Sono le seguenti Che mi sono inventato Diciamo Ecco il problema Non gli ho potuto Usare il cavallo Perché? Perché ci sono Innanzitutto Una marea di personaggi Che c'hanno Il cavallo E soprattutto C'è l'Anseroth Anche perché Se gli davo Un'abilità Che ne so Che avevo Il cavallo E scattavo Il cavallo Eccetera eccetera Identica Alla ulti di Quagliù Alla ulti di 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 L'Anseroth Nonostante L'Anseroth Non dovrebbe Essere così Se gli davo Era praticamente Un tizio a cavallo Con la lancia Ho detto Oh Aspetta Già ce sta C'è cazzo Quindi è stato Un Non ripetere Abilità È stato un Disastro E ho dovuto Inventarmi Dei drag Dei Diciamo Delle miscule Strane Allora Passiamo Alla passiva Lui è un Assassin Che richiede Un attimo Di Pre Diciamo Ingaggio Particolare Nel senso Devi colpire Il nemico Prima Con un'abilità E poi colpirla Con una seconda Abilità Per fargli Danni E' Ecco che Stanno Disco Come vorrei Dimostrare C'è avuto Un attacco E anche Dema di stomaco Adesso Perfetto Lo so Anche Lo spra Vediamo Se va meglio Quindi Allora Eravamo Rimasti Di a E' E' Un assassin Che ha bisogno Di fare Deremente combo Con Le abilità Le proprie abilità per settare In qualche maniera una gigantesca One shot o una cosa tipo Tiro giù l'ultima skill Solo quando devo proprio prendere in pieno Un avversario, una cosa del genere Allora, passiamo Alla passiva, la passiva ho pensato Voglio che ci abbia Qualcosa che gli permetterebbe più danni Se colpisce Una skill prima Di dargli il colpo delle grazie Quante volte è successo che a Red Di un materiale l'intera combo Addosso a un avversario Prima che Riusciamo a Oppure se salva all'inizio Oppure se salva un attimo E non ti erosica quando succede Perché non ne la fai Beh, semplice Ho deciso, ho fatto, ok, voglio che ci abbia qualcosa Che sa te Avevo pensato a una cosa tipo uno specchio Però ho detto, vabbè, ma non c'è senso E ho pensato a una cosa chiamata Afterglow Cos'è un Afterglow? È una cosa che io Chiamo Afterglow Ma è quella cosa che succede nei tuoi occhi Quando tu Vieni accecato temporaneamente Da una luce Quando vedi un attimo un lampo di luce Ti viene accecato E quella cosa che ti Quel, diciamo, baglio che ti rimane sulla retina Per temporaneamente Quando succede Ecco, decidi di fare una cosa così Ogni volta che un'abilità A parte la urti Colpisce il nemico Lascia un Non lo so come definirlo Io l'ho definito globo scrivendo Ma potrebbe anche essere qualcosa altro Lascia un Un globo Di luce Che, in realtà, ripeto Volevo fare Sì, che era uno specchio Io ho detto No, ma meglio di no Una specie di globo Che quando viene colpito O sta nella traiettoria Ovviamente Delle altre abilità Esplode Facendo dei danni Avevo pensato anche A dargli qualche Arie Qualche abilità Del tipo Eh, a qualche cosa Tipo Questa esplosione Fa danni in percentuale Così così Però ho detto Forse è meglio di no Perché potrebbe essere Troppo più Però se poi alla fine Pensi Vai a fare un attimo Di calcoli Forse sarebbe anche stato Sarebbe anche stato possibile Farlo Più C'è una passiva Attiva Che ogni 8 secondi La prima No, scusate No, l'altra cosa Non è questa E il Il fatto sì Che c'ha praticamente Una cosa Che ogni 8 secondi La prima attivazione Di queste cose Che esplode Infligge un blind Che tipo di blind Non quello come Ischel Che praticamente Sancella del tempo Ma più come quello di Ra Nel senso che Così Quindi Accade e basta Prima abilità Allora Ho pensato Che tipo di hunter volevo Che tipo di assassin volevo Ho pensato a un ibrido Cioè potrebbe essere Una tattacker Ma non so nemmeno Se potrebbe essere Una tattacker Alla fine Alla fine Con questo kit Ripeto ragazzi Ho avuto Veramente problemi Mi sono inventato Le cose In un quarto d'ora Letteralmente Sono stato un quarto d'ora A pensare Davanti a un foglio bianco Ho detto Vabbè Faccio questo Questo così Cosa sarà Quattro d'ora Ho fatto Speriamo Vada bene E poi ci ho pensato Ho dato gli ultimi ritocchi Letteralmente Oggi Perché veramente Non sapevo Che cazzo fare Ho pensato A un reset Non esiste In questo gioco Un reset Vero e proprio Diciamo Delle combo Allora Come funziona Tutti gli autoattacker Più o meno Hanno una cosa Chiamata Tutti i personaggi In realtà Dentro al gioco Hanno delle combo Degli attacchi In realtà Non tutti Per forza Hanno delle combo Che cambiano Man mano Per ogni attacco Che lanci Ma più o meno Tutti hanno Delle Diciamo Quando fai Un terzo attacco Continuo Tipo i warrior Ce l'hanno Hanno delle Stili Alcuni warrior Hanno uno stile Di combattimento Che fanno una mossa In più Rispetto al Al normale Una cosa del genere Però di solito Di solito Ripeto Molti Quasi tutti i personaggi C'hanno una combo Abbastanza basica Pochi personaggi C'hanno combo Diverse Cioè Che non siano semplicemente Uno o due Per esempio Ravana è un esempio Molto importante Per esempio Lui ha un cancelling Ovvero una cosa Che praticamente Quando si utilizza Per esempio Personaggi che hanno Un cancelling Come per esempio Ravana Pele Pochi era Dada task Oppure tecnicamente Ma non c'ha un cancelling Però Praticamente Fare due attacchi Prima di fare Il terzo attacco Che probabilmente Causa un'animazione Molto più lunga Se tratta da una frazione Secondo lo so Però È una questione così Si attiva Un'abilità Per far sì Che il personaggio Resetti La combo Dei colpi E rifare Un'altra volta Uno o due Per esempio Coravana È la prima abilità E ad esempio Di fare una cosa simile Ovviamente Funziona così Non gli ho dato nomi Più che altro A tutte le abilità Perché non si ripeto Non si aveva idea È molto semplice È un semplice Affondo Praticamente Ogni tot Lui Ogni volta Che attivi Quest'abilità Lui farà Un affondo Aggiuntivo Che praticamente Resetta la combo E quindi riparte Con la combo Iniziale Però Ogni volta Che lui Lancia Questa cosa E colpisce Ogni volta Che lancia Questa cosa E colpisce Guadagna Una carica Di stabilità Al terzo Affondo Che mette Assegno C'ha un abilità C'ha un bonus Praticamente Il terzo affondo Fa Infligge una riduzione Di irretion Quindi uno Shred temporanea E poi Attiva Afterglow E lo mette Quindi È un'abilità Che applica Afterglow Che non lo applica Nel senso che O attiva Afterglow Cioè che se c'è Sta un globo Lo attiva Oppure Se non c'è Sta Lo crea Penso che In modo che ci sta a pensare Forse è meglio Farsi che Afterglow Ci abbia un cooldown Interno Nel senso Puoi creare un globo Ogni tot Facciamo ogni Come il blind Ogni 8 secondi Crei un globo Se potrebbe anche fa Così togliamo il fattore Che Ogni prima attivazione Lo fai Ogni volta Ogni 8 secondi Puoi creare un globo Una cosa del genere Pure di meno Forse 8 secondi Oppure tanti 6 secondi 7 Una cosa del genere Sì Quindi ripeto Ogni abilità Attiva la cosa Se può fa Conosco le abilità Che si possono fare Una cosa del genere Quindi c'ha senso Secondo La seconda abilità È un proiettile Qui proprio sto Al Non sapevo che cazzo fa Veramente Cioè ho detto Boh C'ha la fionda Gli damo un proiettile Che cacchio Che gli faccio fa È un proiettile La velocità Che gli faccio fa Che skin manca Che non manca Qualsiasi abilità Se stai nella linea di tiro Te becca Quindi ho detto Vabbè Fammi una cosa così È un proiettile Linea retta Semplice Se colpisce il bersaglio Attiva l'afterglow Conflideva la passiva Quindi lo crea Se no L'attiva Quando colpisce il bersaglio Praticamente fa una OE Però Se riesce Sottolineo Se riesce A infliggere i danni E rallenta Scusatemi E rallenta sul colpo Scusatemi Però se riesce A infliggere i danni Dà un buff A Lug Lugus Vabbè A Lug Dà un buff Alla velocità di movimento Diciamo che è una cosa del tipo Te rallento Se riesco a beccarti Che tipo Sto proiettili Probabilmente Possiamo fare Che ci abbia una ragionazione Abbastanza ampia In linea retta Perché comunque La velocità della luce Va veloce Se non si ferma il muro Se va Va avanti Se te prendo Te rallento Se attivo l'afterglow O ti creo l'afterglow E se te faccio danni Io te Vengo a prea Perché Velocizzo Ti raggiungo Quindi ho pensato Una cosa del genere Poi Il terzo Qua Anche qua Non sapevo che inventarmi Però Ho pensato Vabbè Senti Citiamo Uno dei personaggi Ho usato Il salto Di Chuchulein Praticamente Si Quasi Completamente Ma non del tutto Diciamo Allora È un salto È un salto che ha due vie Praticamente In avanti e indietro Perché usa la lancia Come praticamente Asta Se vai in avanti Fa Una OE Quando atterra Fa danni D'aria Quando atterra E poi Fa un affondo Un affondo In avanti Che è leggermente Più lungo Rispetto a quello Che fa Chuchulein Attiva sempre Se fa invece Un attivo Salto all'indietro Il danno Farà un Knock Come dice Knock away Un knock away Leggero Quando fa il salto All'indietro Nel punto dove È presente Tipo se c'ha Un ventaglio C'ha un ventaglio Tipo un hit E poi Dopo essere atterrato Farà un altro affondo In entrambi i casi Si attivano L'afterglow E Niente Semplicemente Volevo aggiungere Questa cosa Che ci avesse Un pelo di mobilità E tipo Un contrattacco Oppure Tipo ad esempio Te stai Non sei qui Te stai C'hai davanti Per fare una specie Di controingaggio Di fare un disingaggio Particolare Fai questa specie Di mezzo Salta all'indietro Con la lastra E poi fai un affondo In avanti Per fare dei danni Extra Non lo so È un po' Stavolta Sono stato proprio A fondo del barile Non sapevo che fare Perché tutti Ci avevano tutto Se l'Ancelot Non fosse stato Come l'Ancelot Che era Potevo dargli il cavallo Ma purtroppo No 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 Porca puttana Quel personaggio Mi tormenterà Fino alla morte Passiamo alla ulti Allora Innanzitutto L'ho già detto Questa è l'unica abilità Che non Crea Afterglow Lo attiva Ma non lo crea Perché È semplice Semplicemente Diventa immune Agli effetti di controllo Salta E si mette Sulla sua barca Ho pensato A fare la barca Che vola Non lo so Una stronzata Se no Ho pensato Semplicemente Era un salto In punti E poi Atterri Atterra in Aoe In punta Praticamente È una Non una global Completa Come Per esempio È più simile Alla ulti di torre In effetti Però Praticamente Atterra Si schianta Al suolo Fa danno Causa Nocap Praticamente Quindi è un nocap Ad aria E attiva L'afterglow Diciamo che Questa è una cosa Del tipo Ingaggio Contro Ingaggio Presa Di kill Se c'è Stanno Là C'è il glow Là Il glow Presente Prende In pieno È una way Grande Quindi Chiunque si avvicina Al globo Prende danni Non prende I globi Non fanno Enormi danni Tipo Non posso L'ho deciso Di fare una cosa Perciò Sugli HP Rimanenti Per far si Che non Prende danni Però poi Ho detto No vabbè Sarebbe troppo Stupida Perché se Non morirebbero Mai Gli avversari Se avrebbero Colpiti Dall'esplosione Perché Se sui HP Rimanenti È come la ulti Di Gab Senza Il potenzialamento Gli hanno fatto Te fa solo Dei danni Leggeri E quindi Sì Ripetiamo Il kit Che ho creato Ogni abilità A parte la ulti Crea un globo E lo può attivare Ogni volta che si attiva Un globo Sul punto bersaglio In cui colpisci Ogni volta che si attiva Un globo Esplode Facendo un blind Esplode Facendo Leggeri danni A OE E fa un blind Più Ogni 8 secondi Ha un cooldown Interno di 8 secondi Praticamente Quindi ogni 8 secondi Puoi attivare Sta cosa Puoi creare un globo La prima abilità È un reset Praticamente È un semplice Affondo Che si che risetta La combo Degli auto attack Quindi la combo Degli attacchi base Ogni terzo affondo Praticamente Ogni affondo Messe a segno Da una carica Al terzo affondo Che c'ha Che da Che va a segno Infligge Una riduzione Di protezione Temporaneo Più attiva L'afterglop Il secondo L'abilità Ripeto Stanno in ordine Poi tra l'altro Non stanno in ordine In specifico Postano S1 3 4 1 Seconda abilità È un proiettile Molto semplice Linea retta Che se colpisce Il bersaglio Fa una OE Che rallenta E attiva L'afterglow Quindi sia lo crea Che Fa esplodere Se però In questo caso Se in caso di Hit Nel senso Se colpisco L'avversario E gli faccio Danno Io guadagno Una bonus Alla procedura Il momento Temporale Solo se Però faccio Danno Il terzo È un salto Speciale In due Direzioni In avanti Semplicemente È un Leggero Danno E Che causa Ovviamente L'afterglow E poi Un affondo In avanti Mentre il secondo È un salto All'indietro Che causa Un danno Ad aria Attorno a sé Quando si lancia Quando si lancia Indietro Facendo un Leggero Knock up Knock away All'avversario E poi C'è un Fendente In avanti In entrambi i casi Si attiva Un fendente Un affondo In avanti Nel caso Si attiva L'afterglow Mentre la ult È l'unica cosa Che non può creare L'afterglow Non può creare La passiva Diventa il muro L'effetto di controllo Salta in aria Poi decide Di dove puntare Con away Non è Le ragioni Non è così Enorme Però quando atterra A casa Dani Ha un enorme Zona Un enorme Vabbè Una bella zona E lancia in aria Nemici E attivando L'afterglow Però non lo crea Perché è una away Quindi sarebbe un inferno Creare Per ogni nemico Colpito Un globo Praticamente Lo so È un po' Meh Comunque si Usa la lancia Per combattere Quello che dico Usa la lancia Di luce Praticamente Lo so che Non è stato Il mio kit migliore Ho avuto Veramente problemi E non sapevo Veramente cosa fare Ripeto Se quello stronzo Di Lancelot Non fosse stato Creato in quella maniera Io lo potevo Anche utilizzare Il cavallo Però hanno deciso Di fare Lancelot Che praticamente Non è Lancelot E quindi Ciccia E niente Fatemi Su questo kit Luglio Ci sarà Il terzo FGC E poi Ad agosto Ci sarà Quello aggiuntivo Che ci saranno Tutti i secondi Posti Dell FGC Degli ultimi Tre mesi Che ci sarà Praticamente Un bonus Praticamente E niente Ci vediamo Poi Spera grazie Vi guardo Il carico Il video Com'è Spera grazie Vi guardo Un gay Padre Ma Non si può Cambiare il mondo Bye bye Spera grazie